La prima epiferia in questa straordinaria piazza, vediamo tutti quanti Aua con la sua mamma e il suo papà e come quei magi anche noi, vediamo nella debolezza il mistero più alto, il Signore c'è stato anche questa giornata bellissima, mi ha colpito che oggi il Papa Francesco ha parlato di tre magi come la libertà, i tre toni, il famoso licenza e l'amore, io credo che solo le caratteristiche che a Bologna sono sempre state curate, la libertà, l'intelligenza e l'amore, ne abbiamo tanto bisogno, credo che oggi questa festa che unisce realtà diverse, presenze diverse, ci fa sentire capire così profondamente quello che ci unisce e anche mettere da parte quello che ci divide, che tante volte è anche così sciocco e ci rende sciocchi, questa è la nostra gioia, portiamo anche noi la libertà, l'intelligenza e l'amore e questo renderà più bella la nostra vita e la vita di questa città. Grazie, tanti auguri, buona epifania o anche direi buona pefana! Applausi E questo è il paio di giusti e il giugno merito insieme alla natalità a fine della città di San Stefano, ricordiamo che questa giornata è venuta dal Comitato delle Manifestazioni Tetroniane della Chiesa di Bologna Grazie a tutti.